E viene in chiusura la pagina sportiva, ci ritorniamo dopo l'intervista di Marco Breviglieri, ma stavolta parliamo di calcio. Si è completata la prima settimana inerente i quarti di finale della Coppa Italia ad eliminazione diretta. Dopo la vittoria del Napoli contro la Lazio per 1-0, ieri sia arrivato il successo della Juventus che ha battuto la Roma per 3-1. I quarti di finale si completeranno la prossima settimana con le sfide martedì tra Milan e Torino e mercoledì tra Inter e Fiorentina. Le vincenti di questi due incontri affronteranno l'Inter o Fiorentina, il Napoli e il Milan o il Torino la Juventus. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento questa mattina alle 10 su Radio TRC con Live Sport per la presentazione del weekend dello Sport of Antino. Per quanto concerne invece il nostro telegiornale, dall'edizione del mattino ci fermiamo qui, prossimo appuntamento con la nostra informazione stasera alle 19. Buona mattinata e a più tardi.